L'allarme è stato lanciato dall'ASL di Novara. Attenti alle truffe, l'azienda sanitaria novarese riferisce dir giri ai danni di anziani contattati telefonicamente per un appuntamento per l'effettuazione di vaccino anti-covid presso la propria abitazione. Soggetti non meglio identificati, spacciandosi per personale ASL, spiegano, contattano telefonicamente persone sole di età avanzata per fissare appuntamenti a domicilio con il pretesto del vaccino. Telefonate simili o persone che si presentano al domicilio proponendo questo servizio non sono autorizzate da ASL Novara. Allo stato attuale non si effettuano vaccinazioni per covid al domicilio. Il concetto viene ribadito anche dall'ASL VCO, dove invece sono state segnalate raccolte fondi porta a porta senza alcuna autorizzazione da parte dell'azienda sanitaria a favore della ricerca sui tumori infantili. Attenzione quindi. Si ricorda che il piano vaccinale covid prevede varie fasi dedicate a gruppi di popolazione diverse. Attualmente è ancora in corso la fase 1 della vaccinazione rivolta a operatori sanitari e non sanitari del Servizio Sanitario Nazionale del Privato, ospiti e operatori delle strutture residenziali per anziani, croce rosse e associazioni per i trasporti sanitari e proprio in questi giorni si sta avviando la somministrazione della seconda dose di vaccino a quanti sono già stati vaccinati. L'estensione della campagna vaccinale ad altre categorie sarà successivamente comunicata attraverso i canali istituzionali con indicazioni circa le modalità di esecuzione del vaccino. Episodi sospetti e relativi al vaccino covid vanno segnalati tempestivamente a polizia o carabinieri.